cari amici di mille un'avventura anche in questo video parleremo di commodore 64 questa volta non il linguaggio pascal che ci ha accompagnato da tanti video a questa parte ma torniamo a parlare di basic visto che sono passati 60 anni è stato pubblicato una nuovissima versione di basic per c64 e anche vic 20 che è velocissima pur non essendo compilata non poteva che essere segnalata questa nuova versione da retro programming italia questo gruppo privato a cui potete chiedere di iscrivervi e che parla sempre di retro computing non solo c64 ma ovviamente spaziano su tutto il retro computing che potete immaginare e apprezzare e sfogliando i vari post a parte appunto alcune di altre notizie che vedo adesso ebbene il post che ci interessa ingrandiamolo un po' è questo in cui si vede lo strano codice scritto in basic ma forse è meglio rivederlo dall'inizio ecco si vede del codice scritto in basic e viene caricato un programma vedete che si chiama balloons ovviamente mongolfiere questo è il programma e adesso vedrete di cosa si tratta sono le classiche mongolfiere a parte il simbolo un po' diverso spiaccicato sopra sul pallone però viaggiano velocissime perché dico però viaggiano velocissime ecco innanzitutto vediamo di che si tratta di cosa stiamo parlando stiamo parlando di hare basic questo nuovo basic una prima versione c'è scritto risale al 2019 però questo è datato 14 maggio 2024 quindi una segnalazione fresca fresca c'è il manuale e c'è il disco da scaricare qui su csdb quindi troverete il link qui sotto per scaricarlo così lo andate direttamente a provare voi e vi dicevo che questi queste mongolfiere le abbiamo già viste da qualche parte se siete appassionati di c64 sicuramente ve le ricorderete ora andiamo a recuperare il manuale d'uso del commodore 64 approfittiamo del pdf disponibile su reddi 64 eccolo qui il famoso manuale d'uso ce l'ho anche qui dietro nell'armadio ma sono così pigro che preferisco scaricarlo da internet ed ecco qui la mongolfiera di cui vi parlavo che sicuramente insomma conoscete l'avrete digitato anche voi il programma ed ecco la mongolfiera con il simbolo della commodore sopra nella parte che riguarda ovviamente gli sprite introduzione ai grafici animati il capitolo 6 e si trova su questa pagina su queste pagine un programma che adesso andiamo a recuperare che ho leggermente modificato per farvi notare una cosa allora mettiamo uno sprite solo e andiamo ad eseguire il programma che era sul manuale del c64 non faceva altro che questa cosa qui andava a creare uno sprite che tra l'altro mi pare di aver scritto non l'ho scritto ero solo digitalizzato dal manuale però evidentemente qualche numero è saltato fuori male voi non ve ne accorgerete perché è piccolissimo ma non è la mongolfiera corretta c'è qualche pixel di troppo comunque vedete questo è il basic normale versione 2 che equipaggiava il commodore e vedete lo sprite che si muove piuttosto velocemente non ha grandi problemi a essere mosso però proviamo adesso a mettere 8 sprite che devono essere mossi contemporaneamente e noteremo qualche differenza quindi sprite da 0 a 7 ho messo un po' di cicli per settare tutti gli sprite allo stesso alla stessa area di memoria che contiene i pixel della mongolfiera e poi carico i dati insomma è il programma che conoscete solo che faccio muovere 8 sprite vediamo che succede 8 sprite quanto sarà più lento rispetto a uno sprite singolo e beh già qui capite che ci vuole un po' di tempo per muoverli tutti e 8 poi non sarà il codice più veloce del mondo quello che ho scritto però in effetti 8 sprite vedete questi colorati e ci piegano un po' a muoversi uno era accettabile due forse ancora accettabili ma tutti questi sprite sono diventati lentissimi tra l'altro non ho tenuto conto che adesso c'è uno sprite che ha superato le posizioni consentite comunque avete visto quanto era lento il movimento di questi otto sprite di queste otto mongolfiere allora cosa facciamo chiudiamo il nostro normale basic chiudiamo cbm prg studio che ci ha aiutato a vedere tutto questo e andiamo a scaricarci hare basic cosa vuol dire hare vuol dire lepre il la prima versione si chiamava bunny basic coniglietto e qui vedete un'immagine in cui ci sono delle lepri che guardano la tartaruga qui in basso e qui in questo manuale ci viene spiegato tutto quello che serve e si capisce come mai questo basic è così veloce c'è scritto qui che il basic ha compiuto 60 anni dal primo maggio 1964 hanno cominciato a essere scritti dei programmi in basic ebbene nel 2019 questo autore alexi va beh il nome adesso alexi alexi e ben che qui su csdb della danimarca trovate tutto quello che ha creato vedete are basic 2024 uno strumento poi grafica strumenti vari se scendiamo fino al 2019 che eccolo qui 2019 bunny basic perciò tutta una serie di strumenti musica grafica di tutto di più che fa capo tutto a questo autore e in particolare ci ha portato questo basic ultra veloce si capisce leggendo questa introduzione come mai è così veloce può essere usato anche sul vic 20 ed è un interprete non è c'è scritto qui è un interprete basic che non è un compilatore basic perciò voi con queste istruzioni andrete a scrivere dei veri programmi basic che però vengono interpretati da un interprete alternativo un interprete alternativo che in pratica sfrutta per essere così veloce solo numeri interi numeri interi per giunta senza segno e ha un set di istruzioni limitato sono disponibili solo questi comandi che vedete qui grandiamoli un po sono disponibili solo queste funzioni tra cui anche queste funzioni più e meno abbastanza strane sono presenti le operazioni di addizione sottrazione moltiplicazione divisione ma su interi senza segno a 16 bit e le variabili sono solo 26 le lettere dell'alfabeto e quindi è ci sono poi ovviamente anche le varie funzioni per fare i confronti c'è if then c'è for next tutte le istruzioni fondamentali ci sono ma non sono diciamo quelle originali sono ottimizzate per sfruttare variabili intere a due byte e quindi ci sono appunto delle differenze rispetto al basic ordinario qui vi spiega tutte le differenze vi spiega anche come eseguire dei programmi tra poco lo vedremo effettivamente sulle mongolfiere e noterete quanto è più veloce il movimento spiega anche come realizzare un caricatore quindi voi scriverete il vostro programma però non sarà necessario rendere le cose complicate all'utilizzatore perché grazie a questi caricatori si può importare direttamente l'interprete il nuovo interprete ed eseguire direttamente il programma davvero una documentazione molto ampia poi ci sono le variabili speciali a x y z che hanno dei significati particolari sono legati per esempio ai registri a legato a regia all'accumulatore x e y sono legati invece ai registri x e y del processore e a particolari chiamate di sistema e poi ci sono qui spiega tutte le varie istruzioni che sono disponibili ma andiamo a vedere il programma che vi dicevo gli otto sprite così col basic v2 lenti sono in realtà in questo hare basic molto più veloci andiamo a vedere cosa c'è sul disco qui ho già caricato il primo programma vedete si è già caricata questa estensione vi spiega già come richiamare queste subroutine scritte in questo linguaggio c'è questa chiamata qui a uguale usr poi tra parentesi tonde usr una funzione normale del basic v2 si deve mettere la linea di programma da cui parte il programma in hare basic andiamo a vedere che programmi ci sono ci sono vari esempi noi ne vediamo solo uno gli altri li potete guardare voi le prime i primi file sono dei file che contengono l'interprete dove caricarlo c'è anche la modalità per il commodore 64 e la modalità per il vic 20 il primo programma che compare è balloons e lo vedremo tra poco ce ne sono altri un dimostrativo qualcosa che riguarda la musica qualcosa che sfrutta il raster cioè gli interrupt delle varie scan line del video che abbiamo visto tante volte nei nostri video sull'assembly del 6510 e tante altre cose quindi le potete andare a vedere andiamo a vedere balloons e poi vediamo fill speed che non ho ancora guardato però credo che sia interessante per capire la velocità e c'è anche un confronto che proprio questo demo che vedete qui tra il basic diciamo quello veloce e il basic normale andiamo a caricare balloons virgola 8 e adesso ci vuole pochissimo e molto corto run adesso guardate questi 8 sprite con quale velocità si stanno muovendo ricordate gli 8 sprite col basic normale erano lentissimi scendevano piano piano e c'era poco da fare a meno di non usare routine in linguaggio macchina non si poteva fare nulla ebbene qui con queste istruzioni con il nuovo interprete e con opportune chiamate di sistema si può fare tutto così velocemente davvero eccezionale come è interpretato e non è linguaggio macchina è il vostro programmino adesso lo andiamo a vedere appena ci sono pochi sprite in giro vediamo un attimo ecco così andiamo a vedere come è fatto questo programma per capire come funziona tutto quanto vedete che c'è la linea 5 nella linea 5 c'è scritto c'è scritto a uguale usr 10 questo è il metodo che diceva all'inizio per richiamare una routine scritta nel hare basic praticamente la linea 10 che è questa quella subito successiva contiene tutte queste istruzioni che non sono il basic normale anche se in effetti vediamo print poi c'è c uguale a 0 d uguale 128 poi qui c'è load ballon sprite virgola 8 virgola 832 qui viene caricato caricati i dati dello sprite quelli che vedete qui col simbolo del coniglietto o meglio della lepre sopra vengono caricati nella locazione di memoria corretta e poi inizia vedete questo ciclo che anch'io ho fatto nel nel programma che avete visto prima vado a specificare che tutti gli sprite puntano la stessa locazione di memoria e quindi allo stesso disegnino che vedete qua questo ciclo ovviamente è molto breve sono solo 8 sprite non ci vuole tanto né nel basic normale né in questo poi vedete altre variabili notate che tutte le variabili hanno una sola lettera c, d, r, a perché in questo basic si deve usare una singola lettera poi ci sono varie strane istruzioni vedete a uguale 0 x uguale d più 50 y uguale 140 poi go 2 go 14 non ci stiamo già capendo più nulla però evidentemente la x e la y avranno a che fare con le coordinate di questi sprite e stiamo cominciando a considerare lo sprite 0 poi notate qui sotto e quindi succederà qualcosa in questa linea adesso ve lo spiego con x che accontierrà questo valore e la y quest'altro valore poi c'è scritto nella riga 60 a più questo è un nuovo operatore che ha aggiunto in questo basic a più serve per prendere la variabile a e incrementarla di un'unità un po' come si fa nel c dove c'è a più più c'è l'operatore col doppio più e qui basta un più dopo la variabile e da 0 diventa 1 poi da 1 diventerà 2 nella riga sotto 3 4 5 6 7 abbiamo da 0 a 7 tutti gli sprite dove specifichiamo la posizione come deve cambiare x e y dello sprite e poi in fondo attende la pressione di un tasto vedete che c'è get a se il tasto non viene premuto torna a 50 permettendo l'animazione di tutti questi sprite se premiamo invece un un tasto adesso lo facciamo vedete che abbiamo questo poke particolare e il programma termina ma in realtà non termina il vero programma termina la chiamata al sotto alla subroutine scritta in questo basic quindi dopo che avremo premuto il tasto continua l'esecuzione della linea 5 che si era interrotta richiamando l'interpretazione di tutto questo codice e mostrerà il listato del programma proviamo a vedere questa cosa qui poi vi spiego quelle strane istruzioni vedete si sta muovendo tutto alcuni sprite in orizzontale perché non gli viene cambiata la x altri in verticale perché non gli viene cambiata la y alcuni in diagonale e così via adesso premo un tasto e vedete che si è interrotto il programma sono spariti tutti gli sprite perché evidentemente con quella chiamata poke veniva disabilitato il disegno degli sprite che sparivano venivano nascosti ed è stato eseguito questo list che vedete qui in alto quindi davvero veloce nonostante sia interpretato qui non c'è nulla scritto in linguaggio macchina però giustamente andiamo a vedere c'è l'interprete che è stato scritto in linguaggio macchina opportunamente per eseguire questo tipo di interpretazione molto velocemente e in più vedete Go2 Go14 che non hanno corrispondente nel Basic versione 2 andiamo a vedere cosa sono queste strane istruzioni Go per capirlo dobbiamo dare un'occhiata e poi vediamo l'altro programma spero che sia interessante perché non l'ho ancora visto allora andiamo a cercare nel manuale Go ecco già qui notiamo Go8 Go9 questa è l'istruzione let quella che assegna un valore alla variabile che si può anche omettere Go8 Go9 sono particolari chiamate di sistema e allora andiamo a vedere cos'è Go2 allora si può usare Go2 la chiamata di sistema Go2 per aspettare che la linea di raster arrivi proprio sotto all'area di testo visibile per evitare il flickering di grafica che si muove non so chi si è iscritto su twitch ma ho sentito il jingle dell'iscrizione su twitch adesso non sono no non sono in diretta mi è venuto il dubbio ma sono in diretta non sono in diretta quindi non capisco comunque a parte il jingle che avete sentito Go2 aspetta che la linea di raster sia arrivata in fondo alla pagina quindi appena all'inizio del bordo mi sembra di capire del bordo quello in cui poi non si vede più la grafica ecco questa cosa qui serve e l'abbiamo visto tante volte attendere che il raster sia passato per poi eseguire determinate istruzioni per evitare proprio questi fastidiosi flickering dei sprite che si muovono perciò qui dove avete visto Go2 il sistema sta aspettando che la linea di raster che sta disegnando lentamente lo schermo sia arrivata qui in fondo qui in fondo dove vedete adesso il cursore e poi dopo Go2 inizia una serie di istruzioni che richiamano Go14 altra chiamata di sistema vediamo Go14 che cosa fa qui le trovate tutte le chiamate vedete Go0 impedisce spegne gli interrupt Go1 li riaccende eccetera Go2 aspetta che la raster line sia arrivata in fondo alla pagina disegnata e così via Go3 fa cose interessanti molto veloci quindi queste chiamate di sistema sono utili per fare operazioni molto lente infatti riempi la memoria puntata da x e y con il valore che contiene l'accumulatore diciamo così qui c'è un esempio quindi è un'operazione che fatta in basic anche in questo basic sarebbe molto lenta ma c'è questa chiamata di sistema che ci consente di riempire una parte di memoria con ah no dice che riempie la memoria bisognerebbe guardare il manuale perché effettivamente x potrebbe essere allora x è il byte iniziale penso e y è il byte finale che deve essere riempito col valore 10 probabilmente il fil che vedremo tra poco userà questa istruzione e così accopia la memoria altre cose c'è anche un generatore di numeri casuali allora go14 sul commodore 64 go14 piazza lo sprite specificato da a quindi questo andrà da 0 a 7 nella posizione x che va da 0 a 511 e nella posizione y che va da 0 a 255 interessante che ci sia la x che va da 0 a 511 vi ricordate che le variabili di questo basic sono a 2 byte perciò possono contenere valori da 0 fino a 65.535 o qualcosa del genere questo è utile perché sapete che lo sprite per essere posizionato ha bisogno per quanto riguarda la x di settare un primo byte e poi c'è un bit ancora da specificare per riempire la parte del c64 che è sopra di me perché essendo i pixel in ampiezza 320 nello schermo del c64 non basta da 0 a 255 ci vuole l'aggiunta e qui possiamo specificare la nostra x perciò come abbiamo visto qua quando abbiamo eseguito il programma qui notate che x non so come evidenziarlo col mouse forse ci riesco vedete questa x parte da 300 quindi parte il nostro sprite da fuori schermo e quindi nella x trovate 300 meno c a seconda di quanto vale c e la y invece è sempre uguale a 150 a quel punto lo sprite che sarà lo sprite 2 0 più 1 più 1 fa 2 ovviamente viene posizionato in quella particolare posizione dello schermo individuata dalle coordinate x e y non ci sorprendiamo che possa essere veloce questa operazione oltre la velocità dell'interpretazione con l'interprete fatto apposta quindi vedete chiamate che permettono di velocizzare tutto quanto e poi ci sono altri altre possibilità con questi go 15 si possono richiamare estensioni realizzate dall'utente stesso quindi tutte cose che si possono un po' guardare per creare programmi molto veloci e quindi alla fine di questo manuale vi spiega anche come creare un unico programma in basic che sfrutti questo particolare interprete oltre all'interprete normale come unico programma quindi non avete bisogno di gestire tanti pezzi esempi qui ci spiega tutti i vari esempi per il WIC20 i balloons non funziona ovviamente ma tutti gli altri che vedete con la crocetta funzionano ecco fill speed ci mostra un benchmark di riempimento della memoria che non funziona sul WIC20 andiamo a vedere come funziona quindi andiamo a caricare fill speed non l'ho ancora visto spero che sia interessante lo ha caricato andiamolo a vedere ecco mi pare che faccia proprio delle temporizzazioni di riempimento di memoria e fa il confronto con quello che fa il basic vediamo sarà velocissimo perché sfrutta proprio taglio il video qui ricomincio tra poco cioè adesso ecco che cosa stavate vedendo poco fa c'è scritto benchmark di velocità la memoria video è stata riempita 15 volte avete visto che prima venivano disegnati certi caratteri poi venivano cambiati e così via all'inizio era molto veloce perché veniva usata la chiamata la chiamata go dov'è che è qua non trovo la chiamata al volo go3 probabilmente e poi è stata fatta la stessa cosa sempre 15 volte però in basic normale e qui vedete che cosa è successo il cbm basic ci ha impiegato 3390 praticamente saranno stati comunque 10 volte di più direi 10 volte di più dovrebbe essere questo che è successo infatti e questo forse è ancora più comprensibile come confronto di velocità tra il basic normale e il basic invece questo basic il programma è questo mosaic che consente di fare proprio una comparazione tra il disegno veloce di caratteri fatto dal basic accelerato chiamiamolo così e quello fatto dal basic normale andiamo a eseguire vedete questo mosaico come si sta disegnando velocemente e ora invece è diventato molto più lento dobbiamo aspettare ma neanche troppo siamo già arrivati a metà schermo e mentre prima avevamo praticamente finito da un pezzo e qui saltano fuori le temporizzazioni del basic eccolo qui mille moltiplicazioni mille divisioni mentre disegnava questi caratteri il basic accelerato 199 diciamo 200 il basic v2 1200 perciò direi che è sei volte più veloce facendo le stesse operazioni ovviamente altro tipo di operazioni operazioni limitate ovviamente agli interi con due byte quindi tutte le limitazioni del caso ma per certe applicazioni è sicuramente più veloce andiamo a vedere ancora un'ultima cosa visto che è interessante per esempio questo scroller andiamo a caricare scroller uno dei tanti esempi che trovate qui andiamo a eseguire ora dovremo scrivere una frase 111 avventura e il nostro commodore 64 abbiamo inserito questa stringa ora diamo un invio e vedete lo scroller che sta funzionando sta sfruttando ovviamente il movimento pixel per pixel che è a disposizione sul vic 2 del c64 e quindi riesce a far scorrere la scritta in questo modo e anche l'input è stato inserito da basic are basic se ora interrompiamo ah no così si è interrotto normalmente come non detto volevo interrompere in altro modo ma è andata così bene quindi abbiamo visto che cosa succede quando dopo tutti questi anni dopo 60 anni che il linguaggio basic è stato inventato qualcuno si mette in testa di rendere ancora più veloce il basic del c64 cercando di tagliare le cose troppo lente mantenendo solo quelle che potrebbero comunque essere utili per creare dei piccoli giochi come si potrebbe creare un gioco di queste mongolfiere che se ne vanno in giro per lo schermo bene direi che sarete già andati a provare voi stessi qui sotto trovate tutti i link che sono necessari per recuperare questo materiale e se create qualcosa di interessante con are basic mi raccomando are basic non so come si pronuncia esattamente mi raccomando proponetemelo che mi piacerebbe davvero mostrare qualche creazione di qualche iscritto realizzata con questo basic ultra veloce a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti benvenuti digitale comandi magici il commodore 64 e la migliore giochi infiniti avventure virtuali immaginazione libera Grazie per la visione!